buongiorno dal tg scientifico leonardo tutto dedicato in edizione è breve però a questa importantissimo nobel per la chimica appena assegnato lo facciamo tutti i giorni con i testi al computer taglia cuci in colla loro hanno trovato il modo di farlo con il nostro dna togliendo tratti indesiderati spostando sequenze una rivoluzione è un punto di non ritorno che ha cambiato le regole del gioco nelle scienze della vita emmanuelle charpantier francese che lavorano lavorato in germania e jennifer dunna americana per la loro scoperta della tecnica crisper calcine hanno appena vinto appunto il nobel per la chimica laura de donato è sicuramente uno strumento molto democratico nel cassetto degli attrezzi di un genetista che sta cambiando la vita degli scienziati proprio per la sua semplicità è una ricerca realizzata in modo libero con fondi pubblici e moltissimi giovani ricercatori senza grandi interessi alle spalle così raccontava la crisper cas9 emmanuelle charpantier premiata insieme a jennifer darna con il nobel per la chimica per aver inventato una tecnica semplice ma potentissima per ridisegnare il dna la cura di malattie ereditarie nuove terapie per il cancro la possibilità di studiare con un altissimo livello di precisione come virus batteri microrganismi reagiscono a malattie infezioni con meccanismi chimici che oggi grazie a loro la scienza è in grado di imitare praticamente tutta la tecnologia genetica che oggi conosciamo è copiata da quella che usano i batteri le forbici genetiche per tagliare i geni all'interno delle cellule nascono dalla scoperta di una molecola che faceva parte dell'antica memoria immunitaria del batterio la crisper cas che ha la funzione di disarmare i virus tagliando il loro dna ciò appantiene il 2011 dopo questa scoperta iniziò a studiare il meccanismo con l'americana jennifer darna esperta di rna a berkeley insieme riuscirono a ricreare in laboratorio queste forbici genetiche del batterio e a semplificarne le componenti molecolari offrendo alle scienze della vita uno strumento eccezionale e alla portata di tantissimi ricercatori una cassetta degli attrezzi semplici ma rivoluzionaria con implicazioni etiche ed economiche enormi anche per questo ha detto shop entier durante la conferenza stampa con l'accademia svedese questo premio dato a due scienziate ancora giovani è un grande esempio e incoraggiamento per tutte le giovani ricercatrici per continuare a inseguire i propri sogni con coraggio anche correndo dei rischi e in pochi anni sono oltre 14 mila gli studi pubblicati